Abbiamo il privilegio oggi di avere con noi, sentiremo parlare, potremo fargli delle domande. Con molto molto piacere vi presento Maurizio Scapargo. Posso dirvi perché ho fatto questo spettacolo? Perché lei rappresenta un esempio raro in Italia e nel mondo di attore, donna, anche imprenditrice, solitaria. Cercate di sapere che nel vostro mestiere dovete sempre pensare di non essere soli. Non dimentichiamolo, che il teatro è una cosa imperdibile nella vita di tutti quanti. Vorrei ricordarvi una frase di Garzia Lorca, la cultura costa, ma l'incultura costa molto di più. Grazie. Sapere con quanta difficoltà e allo stesso tempo con quanta passione, con quanto tormento, si arriva a fare un mestiere come questo, a me ha dato stimolo. Il messaggio che il regista voleva mandare, qual era esattamente? È chiaro che quello che viene fuori dal personaggio Duce è che è molto faticoso fare l'attore, ma è molto faticoso anche vivere. Il rapporto tra la Duce e D'Annunzio, nello spettacolo è stato toccato in alcuni punti, ma non troppo approfondito. Volevo sapere perché. Per far capire che la sua vita è stata costellata di grandi amori, come D'Annunzio evidentemente, come la Serau e come Boito, ma che sopra c'era il lavoro dell'attore, sempre il primo. Sono rimasto molto colpito in alcuni punti dello spettacolo, dalla trasmissione di immagini che la signora Guarnieri riusciva a dare al pubblico. Volevo capire quale tipo di lavoro avete affrontato per arrivare a questa organicità di immagini. Il mio rapporto con l'attore è quello di, io so, regista, dove voglio arrivare. Lei sa come arrivarci. Un regista, se non avesse l'attore davanti, farebbe Sonne Lumiere. Non dico dalla Duse, ma dai suoi primi spettacoli ai giorni nostri, come è cambiato il pubblico rispetto allo spettacolo che sta guardando? È necessario tre cose che si possono tutte avere. Una è la fantasia, perché se non ce l'hai, non ce l'ha. La seconda è uno spazio, devono darci degli spazi, non venderli ai privati. La terza per cui si può fare il pubblico è il pubblico. Lavoro per il pubblico, non lavoro contro il pubblico, perché il pubblico c'è teoricamente, lo spazio ce lo devono dare e la fantasia se non ce l'avete, vengono fuori. Il teatro Valle è occupato. Io mi chiedevo se lei condivide la filosofia che c'è dietro, l'occupazione, e quali sono secondo lei le conseguenze, se ce ne saranno, di una cosa del genere? Pure sbagliando, io penso che era quasi inevitabile che si occupasse il Valle. La strategia e la filosofia non c'è. C'è soltanto una serie di persone che hanno bisogno, come voi, di lavorare. Rispetto la ragione dell'occupazione, è importantissimo per dare questo segnale. Non ha scalfito per un attimo l'impertroguabilità della destra e della sinistra. Non è migliorato il nostro vivere civile. La colpa è anche dei teatri. Il rapporto tra giovani e maestri è viziato anche da un malandare del teatro italiano. Siamo uno dei pochi paesi europei che non ha una legge e quindi non ha delle regole. Mi sembra strano che un paese che ha circa 14 teatri a gestione pubblica e altrettanti a gestione privata, pagati dallo Stato, salvo una o due eccezioni su 28, non abbia almeno una compagnia di giovani. C'è qualcosa in lei che fa pensare a un bambino. A un bambino deluso, dolente, immagino che questo dipenda dalla semplicità della sua arte. Nella somma delle sue qualità nasce l'artista perfetto. La semplice schietta anima del bambino, l'artigiano dalla grande esperienza tecnica, il cuore a cui è stata insegnata la lezione dell'umana compassione e l'acuto cervello analitico dello psicologo. Il punto culminante della porta chiusa è stato il secondo atto, quando la madre improvvisamente viene a sapere che il figlio è a conoscenza del segreto della sua nascita illegittima. Un'attrice di meno talento avrebbe ridotto a brandelli questa emozione. La Dulce si lascia cadere su una sedia contorcendo il corpo come un bambino sofferente. Non si vedeva il suo viso, non c'era l'alzarsi e l'abbassarsi delle spalle. Lei se ne stava lì in silenzio, quasi senza muoversi. Solo una volta che il suo corpo corse un brivido di dolore come un parossismo. Quello e l'improvviso ragrinziersi del suo corpo davanti alla mano tesa del figlio erano i soli momenti visibili e per tuttavia immensa è la sua potenza drammatica e talmente grande è la sua conoscenza della tecnica drammatica e questa scena, scena quasi distrazia il cuore. Confesso che ho pianto. A presto auguri eh! Grazie!